Per i prossimi 5 minuti ogni qualvolta tu dovrai dire qualcosa se non ti sgoccia me lo farai attraverso Ma questa è una cosa super fetish C'è il feticismo dei palloncini Ma in che senso il feticismo? Ingonfiarli o scoppiarli Ma dove scoppiarli? Scoppiarlo il palloncino Vicino alla persona? No ma anche nei video così Vabbè ridimmelo Com'è che devo fare scusa? Avvicini la bocca in ali e poi parli Ciao sono la diva No la di prima Così E poi parli così Oddio veramente? No è fantastico Non lo sapevi? Ah tu li scoppiami e basta Devo succhiarlo Ecco Perfetto Non riesco a succhiarlo E' una solo pratica Amica non ci crede nessuno A me è riuscito benissimo Allora parlo così No voglio parlare così Come faccio? Devi Aspira Aspira Respira Come se stessi fumando Aspira Così? Un po' di più Un pochino vai Così Oddio che bello Oddio che bello Adoro Oddio Oddio fantastico Mentre sperimenti la tua nuova voce Facciamo accomodare qua il campion Ciao Si sente? Si sente da Dio Forte e chiaro Grazie a tutti